Comincia a dare i primi risultati il nuovo corso del settore giovanile dell'US Santa Marinella Calcio. Una società del neopresidente Sandro Brutti e del direttore sportivo Sergio Politi ha ceduto un suo giocatore alla S Roma. Si tratta del giovanissimo portiere classe 2005 Cristian Giustiniani. La firma sul contratto è arrivata nei giorni scorsi. L'attesa è finita e Damiano Lestingi si appresta ad affrontare il suo quinto mondiale in carriera. Il tritone ha concluso ieri le sessioni di allenamento del collegiale svoltosi ad Ostia con tutta la nazionale italiana, comprendente lo staff tecnico e gli atleti in previsione dei campionati mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Barcellona. Sotto la supervisione dell'allenatore Fabio De Santis, il nuotatore Civitavecchiese ha condotto oggi un allenamento specifico per la gara della staffetta 4x200 stile libero, incentrato sui cambi con i compagni all'interno di una simulazione di gara. Il team azzurro partirà dai blocchetti il 2 agosto e con molta probabilità l'ordine sarà il seguente. Ad aprire le danze sarà Marco Belotti, a seguire Damiano Lestingi, poi Alex Di Giorgio e a chiudere le danze sarà Filippo Magnini. Chi pensava che la Valentino Auto, considerata la grave crisi economica che attraversa il paese avrebbe chiuso i battenti, può stare tranquillo. Nel corso di un incontro con la stampa locale, il presidente del sudalizio Tirrenico ha assicurato che la squadra, anche quest'anno, continuerà a battersi e lo farà con le stesse giocatrici della passata stagione, ad eccezione della Romitelli, che per problemi di studio non potrà più calcare il parquet del Palade Angelis. Anche quest'anno la federazione ha provveduto ad apportare alcune modifiche ai campionati. Saranno 32 le squadre di A3 che saranno inserite in due raggruppamenti da 16. Ogni raggruppamento avrà due gironi composti da otto squadre che si affronteranno in un torneo con gare di andata e ritorno. Le prime quattro di ogni girone se la vedranno tra loro. Il Santa Marinella farà parte del girone C ed avrà come avversari il San Raffaele, l'Atena, il Latina, la Ciglia, l'Albano, il Sassari e il Quartu. La preparazione prenderà il via il 2 settembre. Ma questa è la nostra ultima informazione, grazie della cortese attenzione e un buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci. Grazie a tutti.